Raffaele Bonani, segretario della CISL, parliamo di Abruzzo con la ripresa possibile di Confindustria. La ricetta per uscire dalla crisi c'è, secondo il sindacato? Ma una ricetta è seria, valida, solo se coinvolge tutti i soggetti. Tutti i soggetti economici e sociali devono riunirsi per una sola proposta, per inquaraggiare la classe di gente più coraggiosa e più volenterosa. Altrimenti noi falliamo ogni obiettivo. La situazione è molto grave, ognuno chiede all'altro e in questo modo non produrrà niente. Ecco perché è importante parlarci, ma è importante anche arrivare alla definizione di una proposta completa per tirare fuori l'Italia dai guai. La prima questione è le tasse, la seconda questione riguarda il risparmio e la falcidia vera e propria che dobbiamo realizzare verso tutte le spese improduttive, inefficienti, le ruberie. La terza questione è intervenire direttamente su tutti i fattori sfasati dello sviluppo nei territori, perché quando energie, infrastrutture, servizi, amministrazioni e così via non servono l'impresa, l'impresa non investe. Se non investe l'impresa non avremo occupazione. Se non investe l'impresa non avremo occupazione, non avremo ciò che serve a regolare la vita economica. Per quanto riguarda l'Abruzzo, quale consiglio e quale direzione si auspica possa prendere la regione Raffaele Bonanni? Per non essere isolata la realtà abruzzese, per non continuare a essere eccentrica rispetto ai centri di potere dell'economia e della politica, deve fare uno sforzo in più degli altri. Ecco perché qui la questione è ancora più seria, bisogna riunire tutti i soggetti per una proposta unica che sappia fare davvero la differenza. Grazie per la visione!